ciao ragazzi bentornati a un'altra pillola d'italiano con me Alex oggi parliamo di numeri dunque i numeri in italiano e in inglese sono gli stessi ma vengono usati in maniera leggermente diversa ok quindi per esempio 1234 in inglese sarebbe 1234 vedete la differenza in italiano c'è una virgola e in inglese c'è un punto per separare le migliaia dalle centinaia un altro esempio con i numeri decimali 35,8 35.8 quindi in italiano si usa la virgola e in inglese si usa il punto per indicare la cifra decimale quando si parla di valuta di soldi di moneta possiamo dire 1 euro e 75 con la virgola e 1 euro 75 con un punto quando abbiamo cifre grandi oltre la migliaia oltre il mille e anche un numero decimale in italiano possiamo usare questa formula 6457,3 e tra il 6 e il quattro quindi tra le migliaia e le centinaia si può usare un punto o uno spazio in inglese invece 6457,3 quindi prima la virgola e poi il punto un'altra differenza interessante e molto importante in inglese in inglese si dice one hundred in italiano 100 non si può dire uno cento in inglese si dice one thousand in italiano si dice mille non uno mille però attenzione one million un milione one billion un miliardo un'altra differenza molto interessante e importante è quando si dicono le cifre in migliaia per esempio come per gli anni per le date in inglese si dice eleven hundred in italiano mille cento non si può dire undicicento one thousand nine hundred and forty six non si dice veramente in inglese si dice nineteen forty six per una data però in italiano diciannove quaranta sei è impossibile non si dice ok quindi bisogna sempre dire mille novecento quaranta sei allora le cose stanno un po cambiando adesso in italia dal 2000 in poi abbiamo sentito dire nel venti venti ok per usare un po il modello inglese viene accettato viene capito però io preferisco usare ancora la vecchia formula nel 2020 ovviamente quando si parla di date di anni non si usa al punto non si usa una virgola non si usa uno spazio spero che vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima per favore non dimenticatevi di fare like di iscrivervi al nostro canale e di diventare patron magari ci potete semplicemente offrire una tazza di caffè su coffee alla prossima grazie mille come oh 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 e